Bene, allora come annunciato oggi iniziamo l'argomento sulle stringhe che è l'ultimo argomento che sta nell'unità 2, l'unità P2 dove parlavamo appunto di numeri e stringhe, abbiamo visto la settimana scorsa la rappresentazione dei numeri e soprattutto le operazioni che vengono fatte sui numeri, sui valori numerici quindi numeri interi, numeri floating point, le espressioni, gli operatori, funzioni matematiche e così via oggi dedichiamo la buona parte della lezione a parlare di stringhe che sono l'altro tipo base del linguaggio Python la stringa rappresenta, l'abbiamo accennato forse in una prima lezione, la stringa è il nome tecnico per rappresentare una sequenza di caratteri quindi una frase, una parola, una sequenza di frase, una stringa può essere corta come un carattere solo, x, oppure può essere lunga come l'intera Divina Commedia se ovviamente non abbiamo problemi di quantità di memoria disponibile all'interno del nostro programma una stringa è costituita, è un testo di fatto costituito da singoli caratteri quindi una sequenza di caratteri messi uno dopo l'altro e il carattere è un concetto più ampio e più generale rispetto a quello di una singola lettera qualunque linguaggio di programmazione di fatto tratta tutti i caratteri nello stesso modo sia che essi siano lettere maiuscolo, lettere minuscole, spazi, lo spazio è un carattere come tutti gli altri il punto, la virgola, le virgolette eccetera eccetera quindi abbiamo un insieme di caratteri possibili che sono tutti quelli presenti sulla tastiera più altri che possono essere usati per costruire questi testi, queste stringhe sono tutti uguali, siamo noi solamente che diamo un significato alle lettere diverse perché lo usiamo per comporre le parole ma dal punto di vista della composizione della stringa sono tutti assolutamente equivalenti e lo vedremo quando andiamo a estrarli, analizzarli e così via noi per costruire una stringa in python la possiamo costruire esplicitamente come costante, come literal, literal è il nome in inglese per indicare i valori rappresentati come costanti direttamente all'interno del programma, l'abbiamo già visto, si possono definire usando gli doppi apici quindi tra doppi apici o tra singoli apici di solito si tende a usare magari l'apice singolo perché è semplicemente meno pesante alla vista agli occhi appesantisce di meno il testo ovviamente potendo giocare su due tipi di apici diversi possiamo giocare ad esempio se all'interno della stringa ci serve memorizzare il carattere doppio apice basterà che per la stringa complessiva usiamo l'apice singolo e così non si crea confusione ovviamente all'interno della stringa che viene aperta con un apice singolo non potrò mettere un altro apice singolo altrimenti lui capisce che lì voglia finire la stringa ma questi sono dettagli se vogliamo ecco, che cosa possiamo fare sulle stringhe? la definizione delle stringhe tra virgolette l'abbiamo già vista, l'abbiamo già usata ma cosa si può fare? che operazioni hanno senso fare? sui numeri potremmo fare somma, moltiplicazione e divisione ma sulle stringhe? l'operazione più semplice che posso fare sulle stringhe è quella di concatenazione concatenazione che si indica con lo stesso simbolo più dell'addizione però quando questo più viene usato come operatore tra due stringhe questi vengono agganciate, concatenate una all'altra e quindi la seconda stringa viene aggiunta in coda alla prima quindi qui c'è questo semplice esempio che diceva se io definisco il nome e definisco il cognome poi posso definire una variabile name che è la concatenazione del nome e del cognome allora questa concatenazione qui innanzitutto impariamo una cosa nessuna operazione in python potrà mai modificare una stringa mai una stringa è un tipo di dato che si chiama immutabile così come erano gli interi, come erano i numeri cioè 3 non lo potevo far diventare 4, 3 rimane 3 quindi per solo sulle stringhe vedremo che è più importante questo concetto e quindi io non posso, una volta che ho definito first name uguale r non potrò mai modificare questo r facendolo diventare più lungo, più corto o altro potrò semplicemente però creare dei nuovi valori che si basano su questo di partenza e quindi la concatenazione di due stringhe fornisce e crea una terza stringa un'altra nuova che possiamo memorizzare qui ad esempio in quest'altra variabile name se vogliamo vederlo meglio possiamo farlo come sempre sul nostro python tutor in cui possiamo vedere cognome, scriviamo in italiano dai nome uguale fulvio cognome uguale corno completo uguale nome più cognome e se eseguiamo questo programma vediamo appunto che viene definita una variabile di tipo stringa una seconda dove è andata? perché non va avanti nome is not defined oh stupido l'ho fatto in javascript e non in python ok nome cognome e quando torniamo indietro un attimo prima di eseguire l'ultima istruzione vediamo che il nome e cognome sono relativi a due oggetti tipo stringa e quando eseguo la terza istruzione si concatenano queste due stringhe e se ne crea una nuova che ho chiamato completo ok? che in questo caso contiene la concatenazione pure semplice quindi tra la fine della prima stringa e l'inizio della seconda non c'è nulla infatti questo nome viene tutto appiccicato, tutto attaccato se volessi scriverlo, diciamo così in modo più leggibile con uno spazio in mezzo vabbè a questo punto semplicemente dovrò concatenare tre stringhe il nome, lo spazio e il cognome e quindi a questo punto il nome completo risulterà più leggibile chiaramente più comodo quindi stiamo componendo, costruendo una nuova stringa mettendo insieme pezzettini quindi concatenando vari pezzettini che arrivano da stringhe diverse la stringa quindi può avere una certa lunghezza che è variabile e questa lunghezza della stringa per definizione è il numero di caratteri che essa contiene per sapere quanto è lunga una stringa basta chiederglielo basta chiederglielo con una funzione che si chiama len quindi se io qua volessi sapere quanto vale la lunghezza totale che è la lunghezza di completo potrai ottenere che la lunghezza len di completo vale 11 perché è il numero di caratteri che è compreso in questa stringa completo così come l'ha appena calcolata ok? quindi una stringa fatta di un certo numero di caratteri e il numero di caratteri di cui è composta è semplicemente, diciamo così, ottenibile non lo devo sapere prima ma semplicemente lo chiedo alla stringa, dimmi quanto sei lunga allora, quando parlo della domanda di Jacopo sulla chat diceva, attenzione, ma vuol dire che non posso modificare nome la variabile nome non la posso più toccare chiarisco meglio ciò che ho detto quando ho detto prima che le stringhe sono immutabili vuol dire che questa stringa, fulvio, è immutabile quindi nessuno potrà mai, al posto di questa O, mettere una U, ad esempio ok? ovviamente la variabile nome potrò farla diventare qualche cos'altro io potrò dire che dopodiché nome è uguale a ABC e quello che ho fatto è prendere la variabile nome e farla puntare a una stringa diversa non ho toccato né modificato la vecchia stringa che si chiamava fulvio semplicemente adesso qua non viene più mostrata perché non c'è più nessuna variabile che si ricorda di lei ma se io mi fossi ricordato con una variabile ricordati uguale nome del nome adesso qua sta diventando complicato, vado passo passo ho definito una variabile nome ho definito una seconda variabile ricordati che è uguale alla precedente quindi vedete che le due frecce, ma abbiamo già visto questo meccanismo che più variabili possono puntare allo stesso valore poi facciamo altre cose che abbiamo visto prima poi a un certo punto alla riga 6 definirò nome uguale a ABC quindi ciò che sto facendo è ridefinire la variabile nome per farla puntare a una stringa diversa ma questa stringa qui non viene toccata, viene conservata non può essere modificata questo concetto lo vedremo molto meglio quando faremo le liste perché le liste in realtà sono molto simili alle stringhe ma possono invece essere modificate al loro interno e questo crea dei problemi in più quindi di sicuro posso riusare la variabile per farla puntare a qualcosa di diverso ma non potrò mai dire adesso la terza lettera mettele in maiuscolo no, dovrò creare un'altra stringa in cui la terza lettera sia maiuscola cioè ogni volta che voglio modificare una stringa devo creare una nuova che sia ottenuta da quella precedente modificata in qualche modo concatenando qualcosa oppure le altre operazioni che impareremo a fare Antonio e Cristian mi chiedono entrambi la stessa cosa lo spazio conta nella lunghezza? è certo che conta abbiamo però detto che una stringa è fatta di carattere di tipo diverso alcuni tipi sono gli spazi alcuni tipi di questi caratteri quindi se io come nome più cognome ci aggiungessi in mezzo uno spazio vedete che la lunghezza a questo punto diventa 12 perché conta come tutti gli altri se non fate attenzione e mettete tre spazi questi conterranno come tre perché lo spazio è un carattere come tutti gli altri lo spazio tra due stringhe lo mettiamo semplicemente concatenando io qui sto adesso fatemi togliere questo abc e questo ricordati che ci ha servito per spiegare un concetto quando io voglio creare come qua lo spazio tra il nome e il cognome io ho come mattoncini stringa da usare il nome il cognome e voglio creare una nuova stringa che in realtà sia composta da tre mattoni una stringa col nome una stringa che contiene un solo spazio e una stringa col cognome allora quindi sto concatenando lo vedete qua nella riga tre tre stringhe nome la stringa che contiene un solo spazio cognome quindi in questo caso aggiungo questi tre Fabrizio mi dice ma tu potevi già mettere lo spazio qua davanti e va bene certo che potevo però non sarebbe più stata il mio nome perché il mio nome non contiene lo spazio dentro lo spazio lo mettiamo semplicemente come separatore quando mettiamo insieme nomi diversi però certamente se io avessi messo uno spazio qua nella stringa in questo caso mi sarebbero venuti fuori due perché qua ovviamente ne ho aggiunto un altro in mezzo però avrei avuto questo spazio sempre tra i piedi anche qui vedete che c'è questo spazio qui ma c'entra questo spazio togliamolo non fa parte del nome quindi è bene tenere separato quello che è il dato rispetto a quello che è l'estetica che devo usare quando devo stampare il dato in questo caso questo piccolo umile spazio ecco facciamo attenzione giustamente Alessia mi ha sollevato l'attenzione su questa strana stringa apice spazio apice ma io se io qua scrivessi asterisco funziona uguale funzionerebbe esattamente nello stesso modo semplicemente scriverebbe fulvio asterisco corno all'interno della della stringa lo spazio è un carattere come tutti gli altri semplicemente non si vede quindi a volte può dare un po' di confusione nel testo in particolare la confusione l'aumentiamo un pochino perché c'è anche una stringa di tipo particolare che è la cosiddetta stringa vuota perché ci sono anche stringhe che non hanno nessun carattere dentro che non contengono nessun carattere con stringhe che hanno lunghezza 0 ok voi vi fanno una testa così di analisi matematica quindi sapete che ci sono insiemi vuoti no? è qui la stessa cosa un insieme o in questo caso una sequenza una stringa che contiene esattamente zero caratteri la stringa vuota si rappresenta con aperte virgolette e chiuse virgolette subito senza lo spazio in mezzo oppure aperta virgoletta singola aperta e chiusa senza spazio in mezzo ok? la stringa vuota ha il ruolo nel mondo delle stringhe ha il ruolo che ha lo zero nel mondo dei numeri ovviamente quindi Massimiliano che mi dice a cosa serve la stringa vuota serve tanto quanto serve lo zero serve come elemento neutro per la dedizione come punto di partenza quando devi fare delle somme delle accumulazioni come valore speciale che ti indica qualche condizione il fatto che i dati sono finiti eccetera eccetera ma questo ovviamente questo lo vedremo tutti bisogna solo fare attenzione a non confondere la stringa vuota se io dimenticassi lo spazio qui avrei rappresentato una stringa vuota apice apice e vedete che infatti il nome è tutto appiccicato continuamente e lo spazio invece la stringa con lo spazio in mezzo è diversa dalla stringa vuota perché la stringa con lo spazio attenzione contiene quale è la lunghezza di una stringa che contiene uno spazio vuoto perdono uno spazio e lunga uno mentre invece la stringa vuota se chiedo la sua lunghezza sarà ovviamente zero e sono diverse le mettiamo incolonate così le vediamo meglio la funzione len conta il numero dei caratteri sì non ho capito la domanda perché cos'altro dovrebbe contare solo il numero costa il numero di tutti i caratteri compresi gli spazi compresi le lettere compresi la punteggiatura eccetera eccetera tutti i caratteri che sono contenuti nella stringa l'unico scopo della funzione len ok allora una nota solamente sul più l'operatore più l'abbiamo già usato per sommare dei numeri 3 più 5 fa 8 ma anche per string nome più cognome fa il nome completo anzi con lo spazio in mezzo quindi vuol dire un termine complicato che si chiama operator overloading cioè un operatore viene in qualche modo sovraccaricato vengono dati più significati allo stesso simbolo allo stesso operatore e poi sarà il linguaggio Python a capire di caso in caso quale 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 è il caso quale è la l'accezione nel quale lo stiamo usando in questo momento quindi ad esempio se io scrivessi prendiamo una console di Python qua sotto così cambiamo gli strumenti ci abituiamo a usarli tutti se io faccio 3 più 2 lo sappiamo già che fa 5 se io faccio ciao più punto esclamativo sappiamo che fa ciao punto esclamativo ma se provassi a fare ciao più 2 cosa salta fuori quindi se io mescolassi una stringa e un numero salta fuori un errore che mi dice attenzione che tu puoi solo concatenare stringhe con stringhe non puoi concatenare stringhe con interi e quindi sono mondi separati l'operatore più fa la somma di numeri tra numeri interi o numeri floating point fa la somma aritmetica tra stringhe invece fa la concatenazione per evitare diciamo confusione mescolare i due mondi in questo caso non è possibile ma sarà interessante la domanda di Alessandro che dice ma io posso usare length per calcolare quanto è lungo un numero ad esempio length di 1234 lui vorrebbe che fosse 4 per dire alzerebbe la lunghezza di quante cifre decimali è composto un numero e la risposta ovviamente no perché quello che dice attenzione che gli interi non hanno lunghezza cioè gli oggetti tipo intero non hanno nessuna proprietà che ne rappresenti la lunghezza però si può fare si può fare ci si può fare prendendo quel numero intero in qualche modo quindi questo stringhe più numero intero abbiamo capito che fa errore ci può fare se guardiamo questa slide qua due slide dopo e quindi prendiamo il numero e lo convertiamo in stringa e quindi possiamo scrivere allora attenzione a Cristian se mettessi gli apici lo calcolerebbe no non cado a questo trucco perché un attimo che non trovo più ok il cursore se io mettessi gli apici non sarebbe più la lunghezza di un numero ma sarebbe la lunghezza di una stringa è chiaro che vale 4 allora non facciamoci fregare dalle costanti diciamo che il nostro numero n vale 1234 e vogliamo sapere di quante cifre questo è composto allora ln di n non si può fare perché è un intero se metto gli apici ln di n così ovviamente non funziona perché mi farebbe la lunghezza della stringa che contiene il carattere n che non c'entra nulla con la variabile n col valore numerico della variabile n infatti in questo caso ln di n si può fare ma vale 1 ok quello che possiamo fare è quindi attenzione il discorso di mettere gli apici come anche Angelo mi dice ma se io schiesti ciao più 2 2 3 virgolette certo che lo legge come stringa ma ricadrei di nuovo nel caso come diceva qua il primo torniamo indietro se io questo 2 fosse un 2 tra apici ovviamente me lo fa perché è una stringa che casualmente contiene una cifra numerica però questi giochini qua non funzionano se avete dei casi come questi in cui il valore che volete stampare non è una costante che scrivete ma è dentro una variabile che vi è arrivata da calcoli precedenti quindi sicuramente allora se io ho un distinguiamo bene n uguale 1 2 3 4 e che ne so t uguale apice 1 2 3 4 sono due cose diverse ok nel primo caso n lo vedete qua è una variabile che punta un valore intero 1234 nel secondo caso t è una variabile che punta un valore stringa che è una stringa di 4 caratteri i cui 4 caratteri sono un 1 un 2 un 3 e un 4 sono due cose diverse supportano operazioni diverse cioè n più 1 lo posso fare t più 1 non lo posso fare t più più spaz più punto lo posso fare n più punto come stringa non lo posso fare sono due mondi diversi ok il python non si confonde lui sa se è un intero o se è una stringa però posso fare qualcosa in più ho delle funzioni che mi permettono di convertire l'uno nell'altro e viceversa ok quindi ad esempio la funzione str converte in stringa qualche cosa che non lo era quindi ad esempio un numero intero o un numero decimale quindi se io facessi noi avevamo n che è un numero ok se faccio str di n mi viene fuori tra apici non n non viene apice n è apice ma viene apice il valore numerico rappresentato un carattere dopo l'altro chiuso apice quindi la stringa che corrisponde al valore numerico di n in questo caso coincide con la stringa t ma ti l'avevamo messo a mano sappiamo noi che era uguale in generale str se avessi un numero n uguale prendiamo un numero diverso che non conosciamo n per n via facciamolo il quadrato che è un numero strano e voglio sapere di quante cifre è composto questo quadrato allora posso innanzitutto prendere il mio n e con la funzione str farmi calcolare la stringa che è composta dai caratteri dalle cifre che servono per descrivere il numero corrispondente corrispondente a n quindi in questo caso questo str di n sarebbe questa e qual è la sua lunghezza? beh glielo chiedo l'en di str di n quindi n è un numero intero str di n è una stringa che contiene carattere dopo carattere la rappresentazione di quel numero intero a questo punto se questa è una stringa posso chiederle qual è la tua lunghezza in questo caso è 7 e se li contiamo sono 1 2 3 4 5 6 7 caratteri e coincidono con le 7 cifre decimali del numero n perché str ha convertito le cifre decimali in caratteri così come l'abbiamo chiesto quindi è possibile passare da numeri a string e viceversa però bisogna sempre fare attenzione se il dato su cui stiamo lavorando è un dato numerico o è un dato testuale altre operazioni l'operazione invece che ci siamo c'è anche l'operazione inversa rispetto a quella str che è la funzione che si chiama int che prende invece una stringa e la analizza per estrarre un numero intero in essa contenuto in essa rappresentato oppure un numero reale in essa rappresentato quindi possiamo fare l'operazione inversa a quella che facevamo prima quindi se noi avevamo il nostro t che era una stringa e quindi non potevo fare l'abbiamo visto prima non posso fare t più 1 perché 1 è un numero però potrei calcolare int di t cioè lui gli dico senti prendi questa stringa e estraimi il numero intero che c'è scritto lì dentro e lui mi darà 1,2,3,4 vedete che è sotto forma di numero e quindi di questo ad esempio possiamo fare più 1 quindi la funzione int restituirà sempre un numero intero ottenuto leggendo il contenuto della stringa però mentre str si può sempre fare perché io qualunque numero lo posso scrivere come stringa non posso fare il contrario perché io scrivo int di ciao cosa mi deve dire e io gli sto chiedendo senti c'è una stringa questa stringa contiene ciao e convertimelo in numero intero che vuol dire cioè ciao non è un numero quindi non ti posso dare un numero intero che il cui valore sia uguale alla stringa e infatti mi dirà che in questa stringa ci sono lo messaggio scritto in modo strano ma vuol dire che ci sono dei caratteri cioè il parametro della funzione inter non è valido non sono dei caratteri validi in base 10 cioè in base 10 c, i, a, o non sono cifre non sono delle cifre della base 10 e quindi non si può convertire e mi dà un errore chiaramente la stessa cosa capita con float se io facessi float di t mi istituisce 1, 2, 3, 4 punto 0 perché è un float in point non è un intero però se provassi a fare float di x mi dice che ovviamente x non è una cifra ragionevole nota bellasci la vediamo dopo sono altre funzioni che fanno quel lavoro si chiama ord non int qui lo legge semplicemente leggendo i singoli caratteri la differenza da float e int è che int rappresenta solamente numeri interi positivi e negativi float rappresenta numeri anche frazionali numeri così diciamo reali anche se reali non sono perché i numeri reali sono infiniti e nel computer non si può memorizzare nulla di infinito quindi se voglio elaborare solamente numeri interi saranno degli int se invece possono avere una parte frazionaria li rappresenterò come float se evoco int per una stringa che contiene solo un numero decimale in che modo converte quindi tu mi dici voglio fare int di 0.7 e fa cosa ho fatto che non va ah e si arrabbia perché il punto non è un possibile carattere che può essere usato per rappresentare un numero intero io con float lo posso fare sicuramente ops perdon float di 0.7 lo posso fare e mi darà 0.7 ma l'int di questa stringa qua l'abbiamo visto prima ci arrabbia un pochino perché guarda se vuoi un intero se mi dici che dentro questa stringa c'è scritto il numero intero e io trovo il punto decimale ti dico che è sbagliato in realtà quello che posso fare è questo se vi serve è questa operazione qua che dovrebbe funzionare int di float di 0.7 cosa sta succedendo qua io ho preso lo 0.7 questa è una stringa che dentro la quale è scritto il numero del floating point con la funzione float l'ho convertito in numero reale e poi a questo punto la funzione int l'ho chiamata passandogli un numero reale allora noi abbiamo già visto la settimana scorsa che l'int passato su un numero reale ti restituisce il valore intero ottenuto per troncamento troncando il valore del numero reale però int non ha mai visto una stringa in questo caso avrà visto un numero reale che valeva 0.7 come numero reale e ovviamente l'ha troncato a 0 sono tutti giochini così sembrano strani all'inizio ma poi devo dire che programmando normalmente questi problemi difficilmente ce li facciamo ce li facciamo quando leggiamo dei dati dall'utente i dati dall'utente arrivano sempre sotto forma di stringa e noi dovremmo estrarci magari dei valori numerici l'altra operazione che è facile da fare con le stringhe stranamente è una moltiplicazione dici che vuol dire moltiplicazione beh in python è un pochi linguaggi in cui puoi moltiplicare una stringa per un numero intero e quello che ottieni è la stringa ripetuta quindi se io ho una stringa ciao e la moltifico per 4 quello che mi dà è una stringa in cui viene ripetuta 4 volte lo stesso valore di questa stringa quindi se volessi fare una riga di 20 asterischi faccio apice asterisco apice per 20 e se sono pigro non voglio premere 20 volte l'asterisco posso ottenere questa ma ovviamente al posto di 20 può essere una variabile e quindi posso creare delle sequenze di lunghezza variabile non è molto utile se non spesso magari per motivi estetici perché devo farlo io ciao per cento che avete anche voi python ok le stringhe però sono un tipo di dato che come dicevamo contiene dei caratteri quindi è una cosa di più non è un dato semplice non è un dato singolo dovremmo riuscire anche a accedere a riconoscere i singoli caratteri all'interno della stringa quindi finora abbiamo la stringa e l'ho solo potuta aggiungere ad altre o moltiplicare per altre oppure convertire quindi facendola uscire dal mondo delle stringhe invece può essere utile analizzare il contenuto della stringa stessa cioè ad esempio mi chiedo una stringa contiene uno spazio boh si no quali caratteri contiene so che contiene sette caratteri la leng mi dice che ho sette caratteri ma quali sono questi caratteri contenuti nella stringa allora esiste l'operazione di indicizzazione che mi permette di andare ad estrarre a pescare il singolo carattere all'interno di una stringa ogni stringa di una certa lunghezza ha implicitamente numerati i caratteri che sono al suo interno quindi qui fa vedere charsear è una stringa che è a lunghezza 10 se la contate sono 10 caratteri 5 per la parola charse 1 per lo spazio e 4 per la parola here questi 10 caratteri hanno una posizione che è implicitamente numerata con i numeri che vanno dal 0 al 9 quindi il primo carattere di una stringa ha sempre la posizione 0 il secondo carattere ha sempre la posizione 1 il terzo carattere ha sempre la posizione 2 e così via fino all'ultimo carattere che sarà associato alla posizione il cosiddetto indice di posizione che è uguale alla lunghezza meno 1 chiaramente se comincio a contare da 0 chi arriva dal C lo riconosce come un vettore indicizzato da 0 esattamente il principio è lo stesso e quindi noi possiamo andare a estrarre il singolo carattere usando un operatore che si ottiene l'indicizzazione appunto che si scrive con le parentesi quadre quindi indico il valore dell'indice tra parentesi quindi se io avevo il mio nome che era Fulvio con la F mettiamo la maiuscola so che la lunghezza di questo è 6 voglio sapere il primo carattere nome di 0 è F in questo caso la F maiuscola nome di 1 è la U minuscola poi se la lunghezza è 6 io so che nome di 5 sarà l'ultimo che è la U piccola e nome di 6 non esiste perché poiché ha 6 caratteri la stringa questi occuperanno le 6 posizioni numerate dallo 0 al 5 se provassi ad accedere alla posizione 6 python mi dice attenzione che l'indice della stringa è fuori dall'intervallo consentito e quindi stai cercato di accedere a un carattere che non c'è con un valore di un indice che è al di fuori dell'intervallo permesso dell'intervallo consentito quindi non è possibile fare questo allora se io volessi potrei scrivere il mio nome che ne so combinando in modo diverso le lettere nome di 5 più nome di 4 ci divertiamo più nome di 3 non ci divertiamo tanto perché un po' diventa noioso nome di 2 più nome di 1 più nome di 0 e nome di 2 quindi sarà il mio nome scritto al rovescio quindi ho preso la mia stringa che era nome che era composta di 6 caratteri nome di 0 è il primo nome di 1 è il secondo nome di 5 è l'ultimo Matteo mi dice ma cosa vuol dire lm-1 beh visto che la parola ha lunghezza 6 i caratteri sono posizionati in posizioni i cui indici vanno dallo 0 al 5 perché poiché parto a contare da 0 il numero 6 cioè il valore della lunghezza sarebbe già il settimo carattere ok se io ho 6 elementi li sono contati indicizzati da 0 a 5 quindi poiché lm è 6 6-1 fa 5 l'ultimo carattere è sempre nella posizione lm-1 quindi l'ultimo carattere è sempre nella posizione nome di lm di nome meno 1 abituiamoci a comporre tranquillamente queste espressioni una volta che abbiamo capito che lm di nome è un numero 6 6-1 fa 5 e metto questo 5 tra le parentesi graffe e mi darà il nome il carattere le parentesi graffe mi indicizzano la stringa e mi danno un carattere quale carattere quello la cui posizione è l'ultima la stringa vuota non ha indici perché poiché la regola ci dice che l'indice deve essere tra 0 e lm-1 la stringa vuota ha lunghezza 0 e quindi praticamente non potresti avere nessun indice compreso tra 0 e 0-1 quindi non è possibile indicizzare la stringa vuota se io ho la stringa vuota qualunque indice non va bene cioè anche solo l'indice 0 mi dà out of range mentre io se avessi la stringa che contiene uno spazio la prima posizione ha un carattere solo il primo carattere di questa stringa è se stesso quindi il primo carattere della stringa ha indice 0 l'ultimo carattere ha indice l'ang-1 allora torniamo al nostro esempio di nome 2 quello che ho fatto è prendere i vari caratteri della stringa e li ho ricombinati in un ordine diverso quindi ho costruito una stringa nuova che mette insieme le lettere in modo di in ordine diverso della della stringa precedente questa è un'istruzione che non ci piace tanto non ci piace tanto per due motivi il primo motivo ma lo impareremo la settimana prossima è che questo funziona se la stringa è lunga 6 caratteri ma se la stringa fosse lunga 7 se fosse lunga 8 beh dovrei avere una sommatoria che è diversa ogni volta e quindi non è generale non è generalizzabile questa scrittura se la stringa avesse un nome solamente di 4 caratteri allora questi due sarebbero darebbero errori sia il 5 che il 4 se la stringa ha 4 caratteri valgono solamente gli ultimi 4 quindi dovremmo imparare ovviamente a generalizzare queste cose oppure come dice Sebastiano magari ci sono delle funzioni che già fanno questo di suo ma ho fatto questo esempio sia per giocare un pochino sia anche per ribadire che io posso data una stringa estrarre dei pezzi e costruire una nuova stringa nome 2 diversa il cui valore è diverso ciò che non posso fare ciò che non posso fare è una cosa di questo genere nome di 0 uguale g cioè qui sembrerebbe cosa invece attenzione che lo posso fare in molti altri linguaggi di programmazione ma non in python non con le stringhe assegnare un nuovo diverso valore ok a una posizione esistente della stringa se io volessi modificare questa stringa sostituendo alla f una g mi verrebbe da dire vabbè visto che il nome di 0 rappresenta il primo carattere e lo posso usare lo posso stampare eccetera potrò anche modificarlo ecco no ecco in questo è il punto in cui si diceva che le stringhe non sono modificabili sono valori immutabili una volta che la stringa l'ho fatta rimango diciamo così con quel valore per fare una stringa di quel genere dovrei scrivere e costruire una nuova mettendo g più i caratteri precedenti che c'era nella stringa adesso che non sappiamo ancora usare i cicli lasciamo un attimo in sospeso questo discorso ma altrimenti ovviamente molte di queste operazioni in cui devo prendere i caratteri aggiungerli toglierli in un ordine o nell'altro si fanno molto più comodamente appena impareremo a programmare con i cicli ma per ora concentriamoci sulle sulle stringhe ok allora questo è un altro esempio della stringa R come rappresentata abbiamo visto che se io provo ad accedere a una stringa di tre caratteri con l'indice 0 1 2 mi darà i primi tre caratteri se provo ad accedere con l'indice 3 mi darà un errore di out of range questo è ciò che abbiamo appena visto interattivamente e analogamente ho preso anche la stessa g scusate ho fatto lo stesso esempio della slide non l'ho fatto apposta ci fa vedere che non è possibile invece modificare il valore di un carattere una volta che la stringa è stata creata ok questo impareremo a costruirlo però un pochino più avanti quando avremo degli operatori un pochino più comodi e non saremo obbligati a lavorare carattere per carattere ok questa è la tabellina riassuntiva che ci dice essenzialmente le stringhe le posso definire le posso sommare posso calcolare la lunghezza e posso estrarre un singolo carattere sono le quattro operazioni di base i caratteri che cosa sono a loro volta qualcuno ha citato già prima questo concetto i computer lavorano solamente come numeri l'abbiamo detto la prima volta la prima lezione e quindi ogni volta che io presento un'informazione che non è numerica questa a sua volta viene rappresentata indirettamente attraverso dei numeri per dire ogni carattere che noi scriviamo ha un corrispettivo numerico che è il valore numerico nascosto interno che convenzionale che viene usato per rappresentare quel numero ad esempio la g di prima che volevamo mettere questa è una tabellina di un codice che ho detto ASCII questo codice qua risale agli anni 70 quindi decisamente più vecchio di molti di voi probabilmente dell'età dei vostri genitori giù di lì come generazione diciamo così e all'epoca quando hanno costruito i primi computer hanno detto ok dobbiamo rappresentare le lettere va bene però noi dobbiamo decidere la lettera A a quale numero corrisponde perché ogni lettera dovrà corrispondere a un numero la lettera B a quale numero corrisponde la lettera C a quale numero corrisponde e si sono messi e abbiamo fatto una tabella questa tabella ASCII sta per American Standard Code for Information Exchange cioè codice standardizzato americano per lo scambio di informazioni e il fatto che la A stia per americano lo vediamo perché qui ci sono solamente le lettere dell'alfabeto inglese quindi neanche morti troverete una lettera accentata o altri tipi di caratteri che non sono che non vengono usati diciamo così nel linguaggio americano però al di là di questo questa tabella viene usata ancora oggi e quindi la G maiuscola è associata al numero 107 qui ci sono queste varie scusate ho sbagliato il numero 71 qui queste varie colonne sono perché il numero è rappresentato in base 10 in base 16 o in base 8 ma serve se vogliamo fare dei conti lavorare con i bit qualcosa lo vedremo più avanti ma in questo corso non ce ne occupiamo e quindi in questa tabella ci sono lo spazio è un carattere come tutti gli altri vale 32 la maiuscola è un carattere come tutti gli altri vale 65 la minuscola vale 97 vedete che la maiuscola e la minuscola sono due lettere diverse quindi hanno due codici diverse che le rappresentano e poi ci sono anche i vari segni di punteggiatura il due punti l'aperta quadra la chiusa graffa eccetera eccetera ciascuno di questi simboli a un corrisponditivo numerico che adesso vediamo in python come si può leggere e scrivere ok come si può accedere i primi 32 caratteri non sono utilizzabili nel senso che sono codici di controllo uno in particolare ci piacerà perché è il codice 10 che è quello che manda a capo new line in python lo scriviamo come barra n vabbè questo è un dettaglio gli altri sono codici che praticamente non corrispondono a nessun carattere visualizzabile questo per quanto riguarda la tabella ASCI ma per fortuna dagli anni 70 da 50 anni fa quasi ad oggi ci si è resi conto che ovviamente non si può fare tutto semplicemente con l'alfabeto americano e per fortuna è possibile la cosa è evoluta e si sono definite delle tabelle di codici molto molto più ampie che siano in grado di rappresentare tutti gli alfabeti del mondo praticamente e questo codice viene chiamato appunto unicode e all'interno del codice unicode c'è essenzialmente tutto vedete che questo è un sito dei tanti sono diversi che fa vedere la tabella unicode e fa vedere che i primi i primi 128 posizioni praticamente coincidono con quelle della tabella ASCI questo qua è un 65 come abbiamo visto prima la maiuscola un 97 la minuscola e così via quindi fino a qui eravamo gli anni 70 poi siamo andati avanti hanno aggiunto dei codici per le lettere cosiddetto alfabeto latino latino in senso lato quindi diciamo quelli tutte le lettere che sono basate sull'alfabeto latino comprese quelle dell'est Europa eccetera quindi con i vari accenti di varie tipologie si sono aggiunte queste e poi e ce ne sono già molte poi hanno aggiunto dei simboli poi c'è il cirillico e poi oltre al cirillico ci sarà da qualche parte l'alfabeto greco e da qualche altra parte ci sarà l'alfabeto questo come si chiama l'ebraico e poi c'è l'arabo e poi ci sono i vari alfabeti idografici più avanti unico da centinaia di migliaia di caratteri diversi ok in tutte le lingue del mondo python usa questo alfabeto ok quindi in una stringa in python potete tranquillamente utilizzare le lettere accentate dei simboli ci sono anche delle estensioni in cui ci sono alcune emoji definite direttamente come caratteri di unicode e quindi è possibile è possibile inserire un qualunque carattere e viene trattato come tutti gli altri caratteri all'interno delle stringhe quindi nel nostro programma potremmo avere una stringa che contiene un cuoricino adesso chiaramente il cuoricino bisogna andare a prendere però io sono su windows quindi con il tasto windows punto salta fuori il selettore dell'icone delle emoji posso cliccare sul cuore e questa qua diventa tranquillamente una variabile nel mio programma un valore di una stringa oppure potrebbe essere anche qualcosa di più prosaico non so lettere accentate c'è ad esempio per scrivere c'è con la e accentata perdono devo mettere le virgolette doppie perché ho usato un apice singolo ok eccola qua anche la lettera accentata è accettabile per scrivere la e maiuscola si può usare alt con un numero questo numero corrisponde a una tabella diversa che era quella della macchina non esattamente quella di unicode però su windows questo windows punto vi permette di avere anche qua ci sono tutti i vari simboli matematici e dovrebbero essere da qualche parte anche comprese le lettere accentate che codice corrisponde a questo cuoricino a questo codice unicode quindi noi possiamo nei nostri programmi usare tutti questi caratteri senza nessun problema python è un linguaggio che già integra tutte le stringhe anche se usiamo solamente lettere più semplici rappresenta comunque facendo riferimento alla tabella unicode come facciamo a scoprire questo codice numerico se mai ci volesse servire lo possiamo fare con due funzioni che sono ord e chr altrimenti non confondiamole con int str int str l'abbiamo vista prima data una stringa int estrae il valore intero che c'è scritto dentro numero per numero cifra per cifra str dato un numero intero crea una stringa che una volta stampata rappresenta quel numero intero lì ord e chr invece lavorano su singoli caratteri e mi danno rispettivamente il codice numerico corrispondente al codice unicode di quel carattere oppure costruiamo il carattere quindi una stringa partendo dal valore unicode di essa esempio noi avevamo il cuoricino quindi il carattere x di 0 è il cuoricino qual è il codice unicode numerico che rappresenta questo? beh semplicemente uso la funzione ord per farmelo dire e in questo carattere 10.084 10.084 è il codice unicode del cuoricino e invece il carattere che corrisponderà al 10.085 che è quello che lì vicino beh sarà un cuore girato al contrario chissà perché vabbè chi ha fatto unicode adatta dei valori ai dati diciamo così in modo arbitrario che però a questo punto ormai è diventato standardizzato allora ord e chr lavorano sul singolo carattere sul singolo carattere e convertono da carattere cioè da stringa di un carattere solo a codice numerico unicode oppure da intero oppure dal numero intero che rappresenta un codice unicode al carattere corrispondente qui abbiamo fatto le cose strane con i cuori ma ovviamente se facciamo il nostro 65 salterà fuori la maiuscola questo ovviamente continua anche a funzionare per i numeri diciamo così più semplici per i caratteri più semplici allora questo può tornare utile quando dobbiamo manipolare un po' queste cose altre cose che possiamo fare con le stringhe ce ne sono parecchie però dobbiamo un attimo imparare una sintassi in più cioè noi siamo stati abituati finora a usare delle funzioni int str print va bene una funzione anche lei str l'utilità ord chr len la lunghezza e hanno una sintassi funzionale quindi funzione aperta tonda argomento chiusa tonda e mi danno un risultato però in python esistono molti linguaggi molte tipologie di dati diversi adesso noi stiamo appena toccando la superficie di python e quindi non è detto che tutte le funzioni si possono applicare a tutti i tipi di dati cioè ci sono funzioni che hanno senso solamente sulle stringhe allora non avrebbe senso definire una funzione che tu in teoria la puoi richiamare su qualunque cosa se in realtà lei ha senso solamente sulle stringhe allora qui non vi sto a spiegare il concetto di programmazione ad oggetti che fa sì che legato ad ogni tipo di dato noi abbiamo conosciuto i numeri e le stringhe legato ad ogni tipo di dato siano definite delle operazioni che si chiamano metodi che valgono solamente sugli oggetti di quel tipo quindi dei metodi che valgono solamente sugli oggetti di tipo stringa ad esempio vi ho detto in un secondo una cosa che richiede un anno ma non ve l'ho detta in realtà l'unica cosa che ci serve è capire che a volte le funzioni che dobbiamo chiamare su un oggetto hanno una sintesi diversa che sono il nome della variabile punto il nome del metodo chiamiamo metodo ma alla fine è la stessa cosa di una funzione ok quella che è il primo chiamato funzione qua la chiamo metodo perché la uso in modo diverso ad esempio per farla pratica se name è una stringa tutti gli oggetti di tipo stringa tutte le stringhe hanno il metodo che si chiama upper questo metodo upper converte in maiuscolo la stringa stessa questa non è una funzione e quindi non scrivo allora se la mia stringa è nome era questo io non scrivo upper di nome non funziona la funzione upper non è definita ok perché upper è un metodo e quindi funziona nello stesso modo di una funzione ma si scrive al contrario nome punto upper aperta e chiusa tonda quindi qui tra le parentesi tonde non devo più mettere la stringa da convertire in maiuscolo perché la stringa l'ho già messa prima del punto userò questa sintesi strana in cui variabile punto metodo e poi tra parentesi se servono potrò mettere altri parametri in questo caso non servono e quindi mi restituisce non mi modifica la stringa nome immutabile quindi vedete che la stringa nome continua a valere uguale fulvio ma mi crea mi restituisce una nuova stringa ottenuta prendendo quella precedente e convertendo ogni singolo carattere nella sua versione maiuscola quindi dobbiamo solo abituarci quando parlo di una funzione la uso con questa sintassi nome della funzione parametri tra virgolette quando parlo di un metodo invece la uso con questa sintassi con la sintassi punto tra l'altro se vedete nell'IDE dentro PyCharm quando iniziate a scrivere il punto lui comincia a suggerirvi tutta una serie di metodi che puoi applicare a quella variabile lui un pochino cerca di capire che questa variabile sa che è una stringa quindi ti propone i metodi che sono permessi per per le stringhe per valori tipo stringhe tra cui man mano che scriviamo ci sarà anche upper ci sarà anche lower eccetera scusate c'è qualcuno che dice che ci sono ah no ok è tornato a posto ok che tipo di parametro potremmo mettere all'interno delle parentesi dipende dal dal metodo quindi ci sono alcuni metodi ad esempio li vediamo qua ma li vedremo tra un attimo anche che richiedono parametri aggiuntivi tipo ad esempio se io devo unire più stringhe con un carattere separatore allora un parametro sarà il separatore da usare ma andiamo per gradi la cosa che non dobbiamo dimenticare è che comunque qui stiamo chiamando una funzione quindi servono le parentesi tonde se vi dimenticate le parentesi lui non fa nulla quindi scrivere il nome di un metodo senza le parentesi per farlo eseguire per farlo partire non fa nulla questa operazione semplicemente mi dice guarda ah sì che cos'è upper è un metodo e vabbè ho capito che è un metodo ma fammelo eseguilo no se non metto le parentesi tonde non viene eseguito ok come se lui scrive silen senza niente lui mi dice liang ah sì len è una funzione punto ma non la usa ok non la fa partire quindi l'unica avvertenza è ricordarci sempre questa coppia di parentesi ma dopo un po' ci faremo l'abitudine quindi vedremo che ci sono delle funzioni che di solito sono definite e si applicano a quasi tutti i tipi di oggetti ma poi la maggior parte dei casi ciascun tipologia di oggetti ha una serie di metodi propri suoi che si possono usare solamente con oggetti di quel tipo si potrebbe applicare upper a un solo carattere ma certamente io posso perché un singolo carattere è esso stesso è esso stesso una stringa chi arriva da C o da Java in quei linguaggi c'è una distinzione netta tra un carattere che alla fine è un intero e una stringa che è un vettore qui invece non esiste esistono solamente stringhe quello che noi chiamiamo carattere altro non è che una stringa lunga 1 fine quindi se il nome di 1 è un singolo carattere ma è anche una stringa di lunghezza 1 infatti lo posso fare posso fare un len di nome di 1 e mi da 1 chi non arriva da altri linguaggi lo trova ovvio chi arriva da altri linguaggi più complicati più di basso livello dice ma guarda che strano e questo ovviamente lo posso convertire in una stringa di lunghezza 1 quindi un carattere maiuscolo i metodi non sono funzioni che funzionano solo con i variabili ma rispondo ad Angelica sono funzioni che sono applicabili ad alcuni tipi di dato non alcune variabili ok quindi il metodo upper funziona con tutte le variabili che contengono delle stringhe quello che conta è il tipo di dato a cui si applica upper non funzionerà su nessuna variabile che contiene un numero ad esempio ok quindi questa introduzione sui metodi perché questo è uno schemino riassuntivo che cerca di riassumere le poche differenze ma per noi dicevo se non si entra a fare programmazione ad oggetti per noi è una piccola differenza sintattica dobbiamo ricordarci che alcune sono funzioni si chiamano in questo modo alcuni sono metodi si chiamano col punto quando ti servono lo usi col punto è una piccola differenza sintattica poi in realtà semanticamente sono cose molto diverse ma a noi non interessa essenzialmente entrare in questo dettaglio perché siamo entrati adesso a parlare di metodi perché le stringhe hanno una valanga di metodi disponibili ad esempio upper l'abbiamo visto prende una stringa e la converte in maiuscolo lower prende una stringa e la converte in minuscolo replace ecco questo è un esempio di un metodo che ha dei parametri sostituisce all'interno di una stringa un valore vecchio a un valore nuovo oh finalmente riesco a cambiarmi la lettera iniziale del nome se il mio nome continuava a essere fulvio il metodo replace sostituisce cerca all'interno della stringa una f e la sostituisce con una g e finalmente è arrivato gulvio adesso non è esattamente l'ideale perché se ci fosse più di una f me le convertirebbe tutte e vabbè e quindi dobbiamo trovare un altro metodo ok interessante la domanda di Filippo perché len non è un metodo perché in altri tipi di dati ad esempio le liste si può applicare len e quindi si può applicare a tutti i tipi di dati che sono sequenze le stringa è un tipo il più semplice di sequenze ma non è l'unico ok se volete avere un'occhiata ai metodi che una stringa vi mette a disposizione io ho messo un paio di link dove ci sono paginate e paginate di 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 metodi che potete usare sulle stringhe ad esempio index è interessante perché ti dice cerca all'interno di una stringa una sottostringa e ti dice dove comincia e quindi se io volessi ad esempio sapere a che posizione è nome punto index che so la l minuscola che so che c'è nel nome fulvio lui mi dice 2 cioè all'indice 2 si trova la l minuscola cerca dentro la stringa mi restituisce il primo indice in cui trova quella lettera infatti se io vado a vedere il nome di 2 troverò proprio la l ovviamente se cercassi la z nel mio nome non la troverei e allora si arrabbia e dice no mi dispiace ma hai detto di cercare la z dentro il nome non c'è e quindi si genera un errore e quindi ci saranno altre funzioni che vanno a cercare se c'è o se non c'è ad esempio c'è la funzione find che fa la stessa cosa di index ma mi dice solamente se c'è o se non c'è quindi restituisce un valore se la sottostringa esiste ritorna all'indice altrimenti ritorna un valore strano che è un meno 1 quindi qui abbiamo delle librerie che sono confinate qui sono solamente i metodi delle stringhe che possono fare diciamo semplificarci la vita parecchio se andiamo a spendere un po' di tempo per andare a cercarle io ricordavo che ci fosse anche un reverse ma non c'è forse c'è solo sulle liste vediamo se vediamo se c'è perché non me lo ricordo no non c'è vero no perché per rispondere a quello che mi diceva ma non si può fare con un metodo solo a fare a rovescio ma ricordo male ok quindi qui abbiamo appunto un assaggio di due o tre metodi però poco per volta mentre lavoreremo magari ci dovremmo abituare a due cose uno andare a spulciare nella documentazione questo link è un sito che era più facile per me da consultare il sito ufficiale questo ovviamente docs.python che è la documentazione ufficiale di python dove ci sono tutti i metodi di stringhe di ciascuno c'è una descrizione ecco quello che di cui ci dovremmo abituare è anche a leggere la documentazione ma cosa fa questo metodo a cosa serve e che dobbiamo imparare a leggerlo ovviamente è scritto in inglese ma questo non è un problema per nessuno non ditemi diversamente altrimenti mi arrabbio e è usato a volte in un certo gergo ma nel senso ad esempio la find che dicevamo prima proviamo a leggerla stringa.find e ha tre parametri sub, start e end queste parentesi qua mi dicono che gli altri sono opzionali c'è il primo obbligatorio e questi altri tre parentesi sono opzionali non bisogna mettere le parentesi quadre ma vuol dire che puoi metterlo o non metterlo e lui dice restituisce l'indice più basso nella stringa dove la sottostringa sub è stata trovata e poi lasciamo perdere quello dello slide che non abbiamo ancora imparato ritorna restituisce invece il valore meno uno se la sottostringa non è trovata ci vuole un po' per imparare diciamo a decodificare come è scritto qui ritorna ovviamente il valore calcolato il valore ritornato restituito dal metodo str è la stringa su cui lui lavora e questi sono i parametri che modificano il suo lavoro quindi impareremo un po' conoscere alcuni di questi metodi sappiate che nella libreria standard ce ne sono veramente migliaia ok altri dettagli ma direi questo è un dettaglio molto specifico all'interno delle delle stringhe ci sono alcuni caratteri particolari ad esempio sappiamo che per mettere un doppio apice dentro una stringa in teoria dovrei racchiudere la stringa tra singoli apici e così non ho problemi ma se proprio volessi raccoglierla tra singoli da doppi apici oppure magari all'interno della stessa stringa mi saranno sia i singoli che i doppi c'è un carattere magico cosiddetto carattere di escape escape vuol dire scappa fuggi estragnati per un momento il carattere di escape è la barra rovesciata il backslash che lo solito trovate verso in alto a sinistra nella tastiera italiana in alto a destra in quella americana che ha come meccanismo generale quello di modificare il significato del carattere che segue del carattere successivo quindi il backslash da solo non vuol dire nulla ma backslash doppio apice dice ok questo doppio apice non finisce la stringa ma è un carattere che voglio inserire nella stringa stessa fa parte della stringa quindi questo carattere finisce la stringa questo doppio apice è là la stringa che era iniziata qui ma questo doppio apice è un carattere interno alla stringa stessa così come se io volessi mettere davvero un backslash dentro una stringa allora dovrò metterne due cioè una sequenza di escape fatta di backslash e backslash e allora questo viene sostituito da un singolo carattere backslash se voglio andare a capo quando stampo posso mettere una sequenza di carattere particolare che è il carattere di a capo però non posso batterlo con l'invio perché altrimenti mi rimarrebbe la print spezzata su due righe diverse e allora metterò una sequenza di escape che è barra n che viene rimpiazzata dal singolo carattere di a capo e che quando viene stampato ovviamente farà andare a capo ciò che sto stampando in questa tabella ho riassunto tutti i caratteri di escape che tutte le sequenze di escape che sono supportate in python ma alla fine sono quelli che abbiamo visto la capo qui c'è scritto bar new line ma è sbagliato è barra n è sbagliata questa tabella backslash apice singolo apice doppio e praticamente ah eccolo qua barra n la capo ah no questo qua è backslash e poi andare a capo ma questo lo lasciamo aperto e se voglio inserire la capo ho il barra n altre cose direi che non ci non ci servono più di tanto allora Alessio mi chiede se backslash conta in lang no conta solamente il carattere che viene sostituito quindi in questo caso questa sequenza backslash doppio apice conta un solo carattere cioè il doppio apice stesso è una diciamo così una conversione che viene fatta prima di costruire la stringa quando il python legge quel backslash dice ok attenzione questi due caratteri qui in realtà le devo trattare come uno solo che ha un significato speciale e quindi conta uno solo anche dice che è come se annullasse la funzione più che annullarla la modifica la interpreta con delle regole diverse e che ci permettono quindi di inserire dei caratteri che altrimenti non potremmo inserire perché essi stessi avrebbero già un significato dentro una stringa che la renderebbero sintaticamente non più valida ok e questo diciamo così conclude la carrellata sulle stringhe e vorrei chiudere facendo vedere un'altra funzione che è in realtà citata all'inizio dell'unità 3 ma di cui faremo solamente tre slide adesso perché poi magari appunto vediamo un esempio una possibile funzione che usa molto le stringhe è la funzione sono tutte le funzionalità di input output e in particolare finora noi nei nostri diagrammi di flusso avevamo sempre detto input leggi un dato input leggi l'altro dato ma in python non lo sappiamo ancora fare e non sapevamo ancora fare perché non sapevamo gestire le stringhe perché in realtà per leggere i dati esiste una funzione quindi una slide sola poi rispondo alle domande e facciamo un paio di esempi esiste una funzione che si chiama input che blocca il programma e aspetta che l'utente inserisca un dato la particolarità è che questa funzione però qualunque cosa legga la legge sotto forma di stringa ok e quindi se io anche inserissi un che ne so chiedessi l'età di una persona inserisci la tua età con questo input otterrei un valore di tipo stringa quindi la stringa che contiene dentro 25 perché chiaramente ho 25 anni allora questa stringa non è ancora un numero per poi per convertirla in numero dovremo chiamare il metodo int che abbiamo visto prima quindi per poter leggere i dati nel nostro programma dovremo combinare l'operazione di input con una conversione in numero qualora ovviamente il dato sia di tipo numerico se invece il dato è di tipo stringa tipo il tuo nome allora semplicemente lo posso memorizzare in una stringa ok allora con questo possiamo già dare corpo ad alcuni dei programmini che facevamo soprattutto rendendoli un pochino più interessanti perché il dato non viene salvato dentro il programma ma può essere chiesto acquisito dall'utente allora rispondo un paio di domande non rispondo alle domande di Lorenzo che ho fatto prima cioè l'ho vista ma non rispondo perché mi chiede perché sono stati creati i metodi perché questo richiederebbe di capire perché si è introdotta la programmazione oggetti che è un argomento parecchio lungo e direi che lo si può apprezzare solo quando si arriva a fare diciamo così programmi di una certa complessità quando si vede che la programmazione procedurale semplice comincia a diventare troppo contorta in un certo senso però è un discorso che ci porterebbe troppo lontano per essere alla terza settimana del corso ovviamente e quindi non mi sento di approfondire la risposta almeno in lezione poi privatamente se vogliamo volentieri Emanuele chiede di rispiegare i caratteri speciali in realtà non ho capito esattamente cosa facevi riferimento forse ai dunque alla P2 dove c'erano le sequenze di backslash allora Emanuele ok quindi sono vediamolo vediamolo allora vediamo tutto insieme con degli esempi ok sia la domanda di Emanuele che dice come faccio a usare questi caratteri sia la domanda di Alessia chiaramente che legata alla stessa cosa e lo combiniamo con la domanda che ha fatto Cristian che dice ma se io non so che cosa viene inserito e voglio che vengano convertiti solo i dati numerici ok allora facciamo un programmino in cui inserisco dei dati e lui mi dice che cosa ho inserito vi piace? no fa lo stesso lo facciamo un programmino inventato così sul momento in cui creiamo un nuovo file chiamiamolo oracolo perché mi dice che cosa ho inserito ok il programmino inserisce l'utente inserisce un dato il programma lo visualizza e dice di che tipo di dato si tratta ok allora il tutto parte col programma che chiede all'utente un dato quindi dato uguale input inserisci qualcosa questa è l'istruzione input l'istruzione input che cosa fa? ferma il programma in questo punto stampa questo messaggio che in questo caso non è molto gentile ma tardi noi ci capiamo aspetta che l'utente inserisca un dato e prema invio e poi il valore che ha inserito viene memorizzato dentro questa variabile dato che subito dopo posso stampare dicendo print hai inserito hai inserito due punti virgola dato quindi ti dico che cosa hai appena fatto quindi se io inserisco qua eseguo il programma cliccato sul verde dice inserisci qualcosa e il cursore il programma vedete che è fermo qua non sta facendo altre cose e nella diciamo finestra di esecuzione ho il cursore lampeggiante che mi dice adesso toccate inserire qualcosa allora se io inserisco xyz quando premo invio lui mi dirà hai inserito xyz adesso esteticamente non è molto bello perché dopo qualcosa sarebbe bello avere uno spazio qualche cosina perché lui ovviamente non mi lo mette lo spazio perché non glielo ho chiesto allora magari mettiamo due punti e uno spazio così un pochino più bello si capisce un po' meglio cosa succede inserisci qualcosa xyz ha inserito xyz questo funziona sempre perché perché dato l'ho letto come input e quindi è una stringa e qui sto stampando una stringa dentro una stringa posso metterci qualunque cosa e vediamo che è vero nel senso che se io mi fermo metto un breakpoint faccio doppio clic qua per mettere un breakpoint in questo programma così lo possiamo eseguire passo passo e lo mando in esecuzione in modalità debug quindi sulla frecciolina tasto destro vai passo passo ok allora a questo punto il programma si è fermato qua io sono in modalità debug così eseguo passo passo no? vado avanti di un passo e lui mi dice inserisci qualcosa io scrivo xyz qui va a capo è un po' diverso in modalità debug come interfaccia ovviamente ma quando lo solo per farci vedere che quando ho inserito il dato xyz il debugger mi fa vedere che ho definito una variabile di tipo stringa che è proprio xyz e subito dopo me la stampa e quindi l'ho stampato qua e inserito xyz quello che abbiamo fatto prima Sebastiano mi chiede ma se io scrivo dato uguale xyz allora non è la stessa cosa? no allora innanzitutto dato uguale xyz scritto così è sbagliato perché in questo caso c'è scritto prendi la variabile xyz prendi il valore che in quel momento è la variabile xyz e assegna a dato questo valore la variabile xyz non esiste non è una variabile al limite quello che dovremmo scrivere è questo la stringa che contiene i caratteri xyz allora in questo caso sarebbe uguale però se poi l'utente quando inserisce qualcosa anziché xyz volesse inserire abc cosa facciamo? dovremmo modificare il programma in modo da scrivere abc anziché xyz cioè noi quando inseriamo un dato costante all'interno del programma quel programma funzionerà solamente con quel dato lì se vogliamo che il programma il nome se io faccio un programma in cui il nome è uguale a fulvio tutti voi siete arrabbiati perché il vostro nome non è quello allora vedete questo programma è inutile dovrebbe lavorare col mio nome non col nome di quello là quindi noi adesso stiamo scrivendo il programma ma lo stiamo scrivendo per un'altra persona che lo dovrà usare solo la persona che userà il programma saprà quali dati vuole inserire io devo predisporre il mio programma per lavorare con qualunque tipo di dato ok? il dato che solo l'utente saprà è che io non ho la minima idea di quale potrà essere quindi glielo chiedo io il laboratorio la volta scorsa ho provato a fare questo esempio voi dovete immaginare di avere tre cervelli di essere divisi diciamo così come se foste tre persone diverse ok? c'è l'io che scrive il programma c'è l'io che userà il programma domani che non è tenuto a capirci niente di python niente di programmazione e poi a volte usiamo anche l'io per rappresentare il computer che esegue il programma quando dico adesso io qua vedo verifico se è un numero intero è quell'io lì non sono io il programmatore non è l'utente finale ma è il computer che fa quella verifica quindi dobbiamo sempre fare attenzione a quale io ci stiamo riferendo adesso siamo l'io che scrive il programma che istruisce l'io computer a fare operazioni e domani un io nostro amico userà il programma inserirà ciò che vuole io non posso sapere se inserirà x, y, z o altre cose ok? quindi il programma può acquisire dei dati nel momento in cui questi dati saranno noti dagli utenti che li conosceranno allora dove eravamo? allora Anton Giugno mi dice mi restituisce si ferma a inserirci qualcosa perché devi inserirlo poi effettivamente qualcosa quindi noi possiamo fare run quando io inserisco devo poi scrivere invio quando inserisci qualcosa x, y, z invio e mi stampa inserisci a questo punto una volta che ho letto il dato è una variabile del mio programma posso farci ciò che voglio posso dire che la lunghezza di questa è la land di dato tanto è una stringa posso dire che ne so mi piace tanto e allora me lo scrive 5 volte e fa cose così rifaccio run ciao ha inserito ciao lunghezza 4 mi piace me lo scrive 4 volte eccetera eccetera quindi posso fare tutti i calcoli che voglio a questo punto è una variabile esattamente come tutte le altre semplicemente l'ho inizializzata non con un valore costante che è scritto dentro il programma ma con un valore che dinamicamente viene inserito dall'utente ok voi mi dicevate ma se se volessi convertirlo in intero quindi vorrei vorrei ottenere il valore intero di questo dato inserito potrei dire magari inti di dato e a questo punto dico il valore intero è virgola valore allora questo qui può funzionare o non funziona allora se io lo provo e provo a inserire 10 ops non lì scusate sotto provo a inserire 10 invio ha inserito 10 la lunghezza 2 mi piace attenzione cosa ho fatto è 10 per 5 ma questo 10 qua è una stringa quindi non fa 50 ma si fa 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 il valore intero è 10 che è il valore che ho estratto da come intero se però inserissi anziché 10 xyz ovviamente quando arriva qua quando cerca di fare valore uguale di inti di dato si blocca e mi dice attenzione che xyz non sono cifre valide in base 10 allora vorrà dire che questa istruzione la possiamo fare solamente in alcuni casi solamente se siamo sicuri che il dato è un dato numerico una cosa che potremmo fare è controllare se dato è is numeric questo is numeric è uno dei tanti metodi della delle string cerchiamo qua is numeric ecco qua ritorna vero se tutti i caratteri delle string sono caratteri numerici e invece ritorna falso in caso contrario quindi se non contiene tutti i numeri allora is numeric ritornerà una cosa falsa e allora noi dovremo dire ma questo lo impariamo solamente domani che questa istruzione va fatta solamente se is numeric mi dice sì sono tutti numeri e quindi puoi convertirlo in intero se mi dice di no e qui siamo in un rombo quando facciamo il diagramma di flusso ci chiederiamo il dato inserito è un numero se sì fai certe cose se no fanno altre quindi l'operazione input mi serve ad acquisire i dati come facevamo già nei diagrammi di flusso poi per elaborare i dati alcune operazioni le possiamo fare comunque altre dipenderanno dal valore e dalla natura di quel dato quindi ci serviranno dei rombi per analizzare il dato e poi fare in modo che il programma prosegua in modo diverso è vero che lo impariamo domani ma si scrive così semplicemente si usa un'istruzione if e si if poi in due punti si rientra il resto poi domani ovviamente lo vediamo bene quindi se inserisco 10 nello stampa il valore intero è 10 se inserisco x, y, z si ferma mi piace e queste operazioni qua non ci prova neanche a farle ma su questo come dicevo ci ritorniamo con più calma domani ok? su tutte queste operazioni is numeric è una funzione che ritorna vero o falso a seconda che la stringa contenga solamente numeri ma come dicevo ci ritorniamo su queste cose in anticipazione dell'ultimi 20 secondi diciamo quindi su quello che vedremo domani ci sono ancora una mezza domanda in sospeso che mi diceva ma i caratteri speciali cosa servono? ecco ad esempio una cosa che potremmo fare vedete che qua c'è scritto mi piace puntini puntini x, y, x, y, z che è un po' brutto da vedere allora sarebbe bello dopo il mi piace andare a capo allora io potrei inserire ad esempio il barra n che è la sequenza di escape che corrisponde al carattere di vai a capo quando all'interno di una print incontro il carattere newline il carattere di a capo che si inserisce col punto il barra n allora non stampa una barra e una n ma bensì va a capo e il dato successivo lo stamperà di seguito sulla riga successiva lo vediamo se inserisco x, y, x, y non là sotto x, y, z lui stamperà mi piace poi vai a capo e poi stampa il suo x, y, z quindi se vogliamo diciamo così allineare i messaggi che stampiamo ogni volta che inseriamo un barra n di fatto l'output che generiamo andrà a capo e quindi possiamo andare sulla riga successiva oppure l'alternativa ovviamente è fare print mi piace e poi subito dopo print dato per 5 su due print diverse e lui va a capo automaticamente poi c'è una cosa che non mi piace è che c'è questo spazio qua davanti che è lo spazio che mette normalmente il print con la virgola allora dovremo imparare come fare a dire a print di non mettere questo spazio ma questi sono tutti dettagli che poi alla fine si imparano il dettaglietto di come funziona la funzione di quali sono le personalizzazioni di uso delle funzioni quindi dove siamo arrivati siamo arrivati a conoscere le stringhe come si considera un carattere alla volta della stringa come si conosce la sua lunghezza e il fatto che sulle stringhe ci sono una valanga di metodi che possiamo utilizzare che ci restituiscono delle trasformazioni o delle ricerche all'interno di queste stringhe questo ovviamente poi lo useremo più avanti nei vari esercizi quindi non ci mettiamo non ci metteremo mai a studiare in ordine alfabetico tutte le funzioni sulle stringhe via via quando ci serve le andiamo a cercare e dopo un po' capiremo che se magari una certa funzione può esistere o no la andiamo a cercare ok ci viene in mente ma verrà fuori diciamo così magari negli esercizi che faremo e abbiamo anche capito che diventa essenziale che poi il lavoro che faremo domani due cose uno essere capaci a governare l'esecuzione del programma cioè certe operazioni le puoi fare o non le puoi fare a seconda delle condizioni due allineare e stampare bene l'output non è poi così non è così facile come sembra tipo andare a capo nel modo giusto stampare un dato incolonnato nel modo corretto e quindi vedremo anche un pochino questi aspetti ma ovviamente la parte più essenziale più concettuale è quella di riuscire a gestire le scelte all'interno del programma il tempo questa sera è finito e quindi noi ci rivedremo domani mattina alla solita ora che dovrebbe essere le 10 e finalmente entriamo dentro l'unità 3 che tratta appunto delle condizionali e quindi dell'esecuzione condizionale del codice del programma per ora buonasera a tutti e ci rivediamo domani e ci rivediamo Grazie a tutti